I prossimi mesi di ottobre e novembre vedranno la conclusione di quasi tutti i progetti di tirocinio di inclusione sociale, motivo per cui circa 4.200 persone rivarranno senza sostegno al reddito, oltre che senza prospettive concrete, di una contrattualizzazione e quanto si afferma in una nota unitaria della Segreteria regionale di NIDIL-CGL, Felsa-CISL e Wiltemp-Wil, che hanno indetto per il prossimo 18 settembre un sit-in alla cittadella regionale di Catanzaro. Le conquiste sin qui ottenute grazie alle lotte dei laboratori, ha detto nella nota, rischiano di rimanere solo inchiostro sulla carta e non lavoro vero e dignitoso, vanificando passi in avanti fatti. Siamo stati facili indovini nell'anticipare che l'emendamento che riconosce le deroghe assunzionali per i tirocinanti negli enti calabresi non avesse prodotto un solo posto di lavoro e così è stato. Gli enti, come sosteniamo da tempo, non sono nelle condizioni economiche di assorbire un bacino così ampio di lavoratori, né lo saranno, vista la cronica situazione finanziaria degli stessi. Occorre dunque rappresentare alla politica regionale e nazionale la situazione di emergenza sociale che si sta venendo a creare e l'urgenza di coinvolgere il Ministero della Funzione pubblica, così come era stato promesso dal Governatore Occhiuto, alle segreterie confederali di CGL, CIS e Guil Calabria. Un incontro pazientemente atteso, sottolineano ancora le sigle sindacali, e che avrebbe dovuto realmente essere una svolta per l'assorbimento del bacino nell'amministrazione pubblica e tante volte si dimentica di loro, ma se ne ricorda prontamente quando si tratta di sfruttare il lavoro senza dare diritti e tutele. Per tale motivo queste segreterie regionali indicano una grande giornata di mobilitazione per il 18 settembre prossimo con un sit-in da tenersi a Catanzaro alla cittadella regionale.